Accusa pesante per due imprenditori salernitani, associazione delinquere, federalizzata all'evasione fiscale. I due uomini di affari sono finiti agli arresti domiciliari, mentre è stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio per un anno un appartenente alla Guardia di Finanza. L'ordinanza, disposta dal Tribunale di Salerno, è stata eseguita questa mattina dai baschi verdi del capoluogo. Dalle indagini scaturite da un'operazione sospetta, consistente in un bonifico di circa 500.000 euro, è emerso che uno degli indagati, probabilmente con la collaborazione di altre persone che fungevano da prestanome, gestiva un gruppo di imprese che operavano nel settore immobiliare della vendita all'ingrosso di computer. Tra Salerno, Roma e Milano sono in corso ulteriori indagini sul caso.